Nella giornata di oggi, 19 maggio, si sarebbe dovuta tenere come ogni anno la festa dello sport organizzata dal liceo Alfonso Gatto. Questa festa, con la finalità di valorizzare il mondo dello sport, ha avuto sempre grandi successi. Si sarebbero dovute esibire le majorette con altri giochi come gli scacchi oppure la pallavolo e tanti altri. In occasione di questa giornata, la dirigente scolastica Anna Vassallo ha lasciato un video messaggio a tutti i ragazzi. Infatti dichiara, noi non ci arrenderemo e seppur quest'anno siamo costretti a giocare in un campo, diciamo imprevisto e imprevedibile, noi siamo pronti per andare in finale e portarci a casa la vittoria più bella. Il 20 maggio, nello stadio Guariglia di Agropoli, avremmo dovuto realizzare la festa dello sport, promossa ed organizzata dal liceo Alfonso Gatto. I protagonisti, gli studenti e i docenti del liceo, con le altre scuole presenti sul territorio e le associazioni sportive, ricreative, culturali, di volontariato e tanti sponsor. Ad aprire la festa uno show band, costituito dal gruppo delle majorette e dai musicisti del liceo Gatto. Di certo avremmo assistito con fervore ed entusiasmo alle gare programmate, potendo ammirare la determinazione, l'impegno, la passione, la bellezza dei nostri studenti. E di certo sarebbe stata una festa piena di colori e di vivacità. Vogliamo ricordarlo a dimostrazione che noi non ci arrendiamo e che seppure quest'anno siamo costretti a giocare su un campo, diciamo, imprevisto ed imprevedibile, noi siamo pronti ad andare in finale per il prossimo anno e a portarci a casa una vittoria, che sarà la più bella e la più importante di tutte. Grazie.